Domenica 3 marzo a partire dalle 15.30 nella palestra scolastica di Santo Nofrio di Campli si svolgerà il Carnevale per Grandi e Piccini Famiglie in Maschera organizzato dalla nuova Basket Campli. Ricco il programma. Sì, sicuramente ricco il programma. Il secondo anno che abbiamo organizzato questa manifestazione l'abbiamo ripetuta visto il notevole successo dello scorso anno. Famiglie in Maschera perché abbiamo pensato di raggruppare tutti i nuclei familiari. Si possono mascherare anche i genitori? Sicuramente si possono mascherare anche i genitori. Quindi ci sarà spettacolo dalle 16 in poi dai più piccoli ai più grandi perché poi abbiamo pensato che dopo lo spettacolo per i più piccoli ci sarà anche un DJ che continuerà tutta la serata. Quindi il Carnevale anche per i più grandi. Durante il pomeriggio ci sarà anche uno spettacolo con i personaggi dei cartoni animati più famosi? Sì, sicuramente uno spettacolo degno di nota. Sono praticamente le ragazze Chicas Show che presentano questo spettacolo che si chiama Favolando. Si chiama Favolando perché raggruppa tutti i cartoni animati più importanti. Ogni cartone è rappresentato dai vari personaggi. Quindi abbiamo una variazione di costumi e via dicendo. E i bambini che hanno anche l'opportunità di essere anche loro protagonisti. E verranno premiate le tre maschere più originali? Sì, le tre maschere più originali come lo scorso anno. Prima, seconda e terza. Ricordiamo l'appuntamento di questo Carnevale? Vi aspettiamo tutti in massa dai piccoli ai più grandi. dalle ore 15.30 presso il plesso scolastico di Villa Marrocchi di San Donofrio. Domenica? Domenica 3 marzo. E anche l'ingresso l'abbiamo messo proprio a un prezzo modico di 4 euro. Anche perché alla fine ci sarà un ricco buffet a base di porchetta? Sicuramente, la porchetta è immangabile nella nostra tradizione camblese.